Dopo che Cyborg ha sconfitto Deathstroke della insurrezione, ora c'è il suo prossimo avversario, l'ex Luthor, che anche lui è della insurrezione. Stavolta Luthor è più grosso. Arrivederci alla prossima video recensione. Vi aspetta questa splendida battaglia con i due robot, con l'armatura robotica. Ma prima iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e commentate.